Mancherebbe poco all'accordo tra il Ministero della Salute e quello degli affari regionali sull'autonomia veneta in campo sanitario. L'apertura è testimoniata da una foto pubblicata su Twitter dal Ministro della Salute Giulia Grillo e corredata dal richiamo al clima di massima collaborazione con il Ministro Erika Stefani. La trattativa sul testo dell'intesa finale per l'autonomia regionale si era fatta difficile su alcuni temi chiave in cui il rapporto tra centralismo e decentramento delle funzioni è particolarmente delicato. Uno è quello delle infrastrutture con il Ministro Toninelli che rilancia la nazionalizzazione delle autostrade, un altro proprio quello della sanità. Alla fine il Ministro Grillo ha accettato di mettere in mano alla Regione la competenza sulle assunzioni negli ospedali a patto di garantire conti in ordine. Chi decide paga. Ironia della sorte, chi in Veneto si occupava di sanità, oggi siede proprio a Roma. Il viaggio dalla laguna alla capitale è quello di Luca Coletto, sottosegretario alla salute da un mese e mezzo. E proprio a Venezia si infiamma il dibattito sull'autonomia. Il governatore Zaia si affida ai social per intervenire sul tema delle ricadute dell'autogoverno regionale a livello nazionale. Questa autonomia, richiesta da Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, che viene dipinta ai cittadini come la morte del sud, è invece una grande opportunità per loro. E anche per noi, scrive. La verità, suggerisce i cittadini del sud di osservare bene la realtà dei fatti, è che l'autonomia fa paura a molti amministratori del sud, perché essa è una vera assunzione di responsabilità. La pensa diversamente Alessandra Moretti, consigliera regionale del PD. L'autonomia si conferma ogni giorno che passa un grande blef, denuncia. Finora Zaia ha dato i numeri sul residuo fiscale e le risorse che sarebbero tornati indietro. Prima 21 miliardi, poi 15. Soldi che il Veneto non avrà mai. Il ministro Stefani ha smascherato la balla dei nove decimi delle tasse da trattenere sul territorio, mentre di costi standard non si parla più.